Sono 7 e 3 del 2 giugno 2023, facciamoci qui in giro sulle mura poligonali della città Oggi mi sono portato il giugno stamattina, eccole qui, qui avanti si vedono meglio, queste praticamente sono terze o quattro secoli a Venti Cristo, ma qua nel corso di 2400 anni E quanti terremoti ci sono stati? Ecco la parte diciamo più integra dove si vedono meglio le mura poligonali, eccole qui, qui recentemente qualcuno ha otturato questi buchi, uno questo qua, l'altro questo qua I riberti ecologici che stanno qui dentro, li hanno messi qui Bene Grazie a tutti Grazie Grazie Grazie